Negli ultimi giorni presso la sede locale della Feder Consumatori Licata sono pervenute numerose segnalazioni circa strane a dir poco equivoche proposte di contratti luce e gas da concludere porta a porta. Pertanto è doveroso invitare la cittadinanza a tenere gli occhi ben aperti. A parlare è Angelo Pisano, il responsabile della sede locale di Feder Consumatori. Nello specifico, giovani ben vestiti e devolti all'apparenza rassicuranti si aggirano per le vie licatesi con un solo intento, ovvero quello di sottoporre vantaggiosi contratti a prescindere se ciò corrisponde al vero oppure no. Quello che più ci indigna, dice Angelo Pisano, sono le modalità di vendita, in quanto gli agenti arrivano a convincere persone anziane, riferendo loro, dopo aver letto i cognomi presenti nei citofoni, che anche i vicini avevano sottoscritto tali contratti. Ma non finisce qui, sono giunti a far siglare anche un contratto, peraltro ad un ultra settantenne, senza neanche riportare i codici dell'agenzia, l'agente e lo stesso contratto. Quest'ultimo sottoscritto da parte dell'agente è in stampatello e con nome e cognome verosimilmente fittizio. Feder Consumatori, continua Pisano, esorta a non firmare tali tipi di proposte se non si è realmente sicuri della vantaggiosità e delle modalità dell'offerte e nel caso in cui fosse stato già fatto, ricorda che vi è sempre la possibilità di esercitare, entro dieci giorni, il diritto di recesso con una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno. Per ogni dubbio, gli utenti possono rivolgersi ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 18 alla sede della Feder Consumatori, sito in Corso Umberto, al Civico 165 presso i locali della CGL.